credo che ci troviamo di fronte a una vera novità ma regressiva il colmo è che a lamentare un ritorno al passato politico sia fausto bertinotti già segretario di un partito si chiamava rifondazione comunista bel paradosso non c'è che dire l'ex sindacalista ed esponente della gauche italica più militante ha unito la propria voce al coro dei dissensi nei confronti del governo meloni e lo ha fatto accusando la neopremie di avere una leadership troppo forte al punto da evocare certi scenari dan tempo il mio è un no molto completo ha affermato bertinotti in merito al proprio giudizio sul nuovo esecutivo secondo l'ex segretario di partito i discorsi della presidente del consiglio si potrebbero infatti riassumere così avanti con forza verso il nostro passato un'analisi curiosa dal momento che a pronunciarla sulla 7 è stato un politico che a suo tempo si presentò agli elettori con un simbolo che riportava la falce e il martello su una bandiera rossa non proprio il massimo dell'avanguardia politica verrebbe da dire siamo di fronte nella novità a una riedizione di un tempo che pensavamo lontano cioè la cultura politica degli anni 50 l'idea cioè che c'è una parte da cui si sta contro l'altra parte poi l'analisi dell'ex presidente della camera è proseguita questa compagine governativa viene presentata come totalizzante l'elemento di novità è che siamo di fronte a un capo del governo così forte da aver annichilito nel dibattito parlamentare le opposizioni che già non ne avevano bisogno e anche la maggioranza ha osservato bertinotti intervenendo stamani all'aria che tira e qui è arrivato il pezzo forte della sua disquisizione siamo di fronte a una piena dittatura del presidente del consiglio sulla sua maggioranza i suoi discorsi ricordano quelli di capi dello stato della destra potente peraltro l'ex segretario di rifondazione comunista ha tenuto a fare un'ulteriore precisazione originata dal fatto che a suo giudizio in italia ci sarebbe una certa nostalgia per le destre per bene degli altri paesi definizione che lo stesso bertinotti ha però smentito per rincarare la dose la destra quando vince tende sempre a essere estrema ha infatti sostenuto spiegando che questa caratteristica si adatterebbe anche all'esecutivo in carica guardate l'impianto che presenta il governo è conservatore e reazionario e pensare che Giorgia Meloni e i suoi hanno iniziato a lavorare solo da pochi giorni